Questa è l'immagine di una persona in gabbia che sicuramente non è libero di muoversi. Però se allarghiamo l'immagine scopriamo che in realtà la gabbia è sostenuta dalla persona stessa. Cioè noi oggi viviamo in un sistema nel quale noi siamo convinti di essere in gabbia e ci raccontano in continuazione che siamo in gabbia, che quindi dobbiamo sottostare a tutta una serie di vincoli, dobbiamo restituire il debito, dobbiamo trovare i fondi che non ci sono mai e quindi dobbiamo fare sacrifici. Tutto ciò è solo la nostra percezione, ma di reale non c'è assolutamente niente. Considerate che questo problema lo raccontava già Platone duemila anni fa. Noi viviamo incatenati in fondo a una caverna e siamo costretti a guardare delle immagini e dei discorsi fatti su delle tv, su dei giornali, su dei libri. Quindi quello che noi vediamo è una realtà che ci viene fornita, ma che non è la realtà vera. È una realtà che ci viene indotta, ma fondamentalmente noi pensiamo che quella sia la realtà. Platone dice che però se uno di questi incatenati riuscisse a liberarsi, a uscire da questa caverna, scoprirebbe che la realtà è ben altra rispetto a quella percepita da quella tv. Scoprirebbe che è fatta di cose vere, è fatta di colori. Ma la cosa più assurda è che dice che se per caso, una volta scoperta questa realtà, volesse tornare dai suoi compagni a cercare di convincermi, a cercare di capire qual è questa realtà nuova, i compagni si rimonterebbero verso di lui, addirittura, e non crederebbe il profilo a uccidermi. Quindi stasera, mi raccomando, quando vi verrà la voglia di uccidermi, cercate di frenare un attimo, non è perché sto cercando solo di portare dentro la caverna un po' di luce e di cercare di darvi delle informazioni che probabilmente non avete mai ascoltato nella vostra vita. Quali sono le due cose che ci racconta quella tv? Che lo Stato non ha i soldi e che quindi deve fare dei sacrifici politici di autentica, le chiamano, ma soprattutto ci raccontano che il debito pubblico deve essere ripagato. Ma è vero?